Ciao a tutti ragazzi, eccomi tornata con una nuova puntata della Makeup Collection mi scuso da subito perché è un po' in ritardo rispetto al solito ma ho dei problemi con la connessione e i video ci stanno mettendo davvero davvero una vita a caricarsi, cose del tipo 24 ore per caricare un video quindi appunto mi scuso se sto rimanendo un pochino indietro oggi continuiamo con la base, quindi vi parlerò delle mie ciprie sono un pochine, alcune promosse, alcune un po' meno iniziamo subito da una delle mie cipre preferite, che è questa qua di Kiko la Invisible Powder si tratta di una cipra traslucida, quindi come vedete è una cipra bianca che poi rimane trasparente sul viso è veramente finissima, non fa lucidare il viso e soprattutto io ho trovato che messa non dopo la base ma proprio dopo il trucco finale va a far durare di più, molto di più il trucco l'unica cosa che diciamo mi piace un po' meno è l'applicatore perché è fatto così con questa spugnetta, che in pratica fa così e lo metti a me non piace per niente, la utilizzo ogni tanto mia madre ma a me non piace, quindi io prendo semplicemente un pennello grande da viso vado a pulire la spugnetta e vado a prelevarlo da qua, che come vedete ha comunque i buini quindi non va a far perdere troppo prodotto ecco, come vedete è proprio bianca ma una volta che la sfumo non si vede proprio più la cosa buona è che pure essendo un prodotto Kiko ha un ottimo inci quindi comunque essendo che alla fine la cipra la usiamo giornalmente usare sempre anche, almeno su di me, cipre con un cattivo inci lo noto poi nella pelle, va a incidere nei brufolini, nei punti neri quindi effettivamente è una gran cosa io questa cipria gli do voto 8-8,5 perché effettivamente mi piace davvero tanto, quindi ve la straconsiglio altra cipria traslucida che mi piace davvero molto è la cipria Hollywood, scritta da me, di neve la vedete scritta da me perché era un formato mini e su un formato mini prelevare la cipria è davvero una cosa impossibile perché non c'entra proprio materialmente il pennello e quindi l'ho travasata in una jarra un pochino più grande se non sbaglio questa è da 20 o 30 ml, non mi ricordo e come vedete anche questa è una cipria bianca per essere un formato mini e usarla davvero spesso dentro ce n'è ancora davvero molta rispetto a quella di Kiko mi piace ancora di più perché è davvero finissima, impalpabile e ha la bellezza di lasciare la pelle liscia, liscia, liscia tant'è che infatti mi ricordo quando la presi e l'assi sul sito di neve che era tipo adatta, non mi ricordo come diceva il preciso anche per le foto, effetto finto effettivamente fa proprio un effetto pelle perfetta è davvero bellissima vi consiglio magari ecco se non volete subito spendere il formato grande viene intorno ai 12 euro se non volete subito azzardarvi a spendere 12 euro perché magari per me può essere una buona cipria per voi no e vi consiglio di provare il formato mini visto che viene intorno ai 3-4 euro e vi assicuro che ci fate davvero un bel po' e in questa vabbè ho inserito io il sifter con i buchini perché se no andavo a perdere davvero troppo prodotto anche questa la stendo ovviamente con un pannello grande da viso ed è fantastica, non mi fa lucidare assolutamente tiene il trucco su perfetto per tutto il giorno ed è una cipria a cui do 9 e in assoluto la cipria migliore che abbia utilizzato fino ad adesso e finendo allora con le ciprie traslucide vi mostro questa di Essence l'All About Matte che si è un po' sfucidata che non vorrei dire cavolate ma se non sbaglio ho letto che va anche fuori produzione se la sbotto esce il prodotto e ve la consiglio perché comunque anche questa è assolutamente un'ottima cipria soprattutto per il prezzo che ha e a parte il fatto che a me si è rotta finché era ancora in tela la usavo molto così diventa davvero molto polverosa e diventa un po' più complicata però è una buona cipria che fissa il trucco non fa lucidare anche questa è molto comunque fichina e trasparente anche se preferisco comunque apparirà le altre due a questa do voto 7 passando invece alle ciprie colorate e quella diciamo che avete visto di più nei miei video è questa cipria della Moa che è la shade 2 in quanto ad inci non vi parlo perché fa veramente pietà però non è una cipria che utilizzo tutti i giorni quindi insomma una volta niente si può fare e per l'inverno questo colore è leggermente un po' troppo scuro per il mio incarnato come vedete è questo colore qui però se ne applico poco insomma si può fare per l'estate è perfetto infatti come vi ho fatto vedere anche nel video di Moss Blade l'ho usata davvero molto è una buona cipria soprattutto per il prezzo che ha perché viene davvero poco intorno a 1-2 euro e non fa lucidare è vero anche che premetto io non ho grandi problemi di pelle grassa cioè è difficile che mi lucido anche se mi scordo la cipria o perlomeno mi lucido ma ho poco nella zona T quindi effettivamente il mio parere cioè la mia review diciamo non è quella di una persona con una pelle molto oleosa però vi posso dire che per le mie esigenze va più che bene ed è super super low cost l'unico secco del sito saper scegliere bene il colore però per me rimane comunque una buona cipria a cui do 7 poi ho una cipria della Elf dove però si è cancellato il nome so solo che è la Epcot Beige ed è questa piccola cipria che non utilizzo quasi mai infatti nel mio progetto smaltimento vorrei iniziare a utilizzarla il colore va molto meglio rispetto a quello della Mois perché come vedete non sembra ma è molto più chiara il fatto è che non mi fa impazzire non noto differenza se la metto o non la metto non lo so è un prodotto un po' inutile per me non mi ci trovo proprio bene ora voglio cercare di finirla in qualche modo per cercare comunque di smaltirla e il mio voto per questa è 5 altra cipria è sempre colorata che in realtà può essere sia una cipria che un fondotinta ma io la uso solo come cipria è questa qui della Essence la 2 in 1 Makeup & Powder Wet & Dry infatti si presenta così volata la spugnetta si presenta così qui all'interno da uno specchietto qui diciamo il prodotto e qui questa spugnetta in realtà se tu prelevi il prodotto con la spugnetta bagnata il prodotto prende una consistenza diciamo diversa e fa da fondotinta l'ho provato una volta non mi è piaciuto e non l'ho rifatto e a essere sincera anche la cipria non mi piace molto perché ha una consistenza intanto il colore volendoci può anche stare anche se sembra chiarissima da qui e non so se riesco a farvi capire quello che voglio dire ha una consistenza un po' pesante ovvero quando la stendo cioè per me la cipria deve essere una cosa che c'è ma non si vede o perlomeno se uso tipo questa della Mua mi dà quel tocco di colori in più ma non si deve vedere a livello di stratificazione ecco e invece questa a parte che ora qui la vedete un po' troppo chiara e fa proprio un po' l'effetto cerone fa un effetto brutto addosso e anche questa vorrei cercare di smaltirla in qualche modo ma non riesco perché ogni volta che la metto non mi piace assolutamente l'effetto mi dà proprio di un effetto artificiale di un effetto pesante non naturale come piace a me tra adesso io ho su fondotinta cibria terra e blush ma non ho tre strati di roba che si vedono è quella la cosa che a me non piace e io ho questa che è la colorazione 20 natural nude ma appunto non la riesco ad usare anzi se avete qualche idea di come smaltirla fatemi sapere e questa do a voto quattro niente ragazzi queste sono le mie cifre so che non sono chissà che però insomma ci tenevo a mostrarvele a parlarvi di loro fatemi sapere qual è la vostra cibia preferita se avete qualche consiglio di dotarmi e come vi siete trovati anche voi con queste se l'avete provate aspetto i vostri commenti e ci vediamo al prossimo video ciao